Ciao Marcello, ciao Valtteri, a caccia o Camillo, ciao Deglio, un saluto a tutti i selfisti Giochiamo con l'Inter, dominiamo Ma grandissima Inter Che difesa, che squadrone Spalletti, un fenomeno Giochiamo a Napoli, vinciamo 1-0 Grandissimo Napoli Come gioca questa squadra Fantastica Io mi domando e dico Ma Juve e Inter ieri, ma come abbiamo fatto a non vincere? Perché non riesco ad avere una risposta su questo Non ce l'ho, non riesco ad averlo L'unica cosa che posso dire, che mi sono un po' incavolato, diciamo, leggermente È stato sul fatto delle sostituzioni Cioè, se togli che dira, io avrei messo Bernardeschi Avrei tolto Mandzukic gli ultimi 10 minuti e quarto d'ora e avrei fatto giocare Douglas Costa Secondo me forse qualcosa veniva fuori Perché ultimamente Douglas Costa sta giocando alla grande Comunque non si può dire niente a questa squadra Però a volte sento dire Degli altri campionati vincono le Champions Le squadre perché combattono di più i campionati Ma veramente l'Inghilterra sta dominando il Manchester City con 11 punti di vantaggio Il Bayern Monaco ogni anno passeggiando vince i campionati alla quindicesima giornata In Spagna, bene o male, l'ha sempre vinti quasi il Barcellona Il Real ha vinto l'anno scorso ma li vince sempre il Barcellona Tranne una volta l'Atletico Madrid che è stato un caso raro Un miracolo, diciamo Per il resto vedo sempre le stesse squadre vincerlo a... In Germania a dicembre lo vincono, lo vince il Bayern In Premier League a parte quando c'è stato un attimino l'Eister City Che ha vinto a Ranieri in casuello Vincono lo stesso 5-6 giornate prima della fine E quindi dov'è che è combattuto gli altri campionati che poi vincono le Champions? Mo' Io ho giocato a pallone una vita Seguo il calcio da una vita Tutti i campionati li seguo tantissimo Ma... Mi viene da ridere Si vede che non ci capisco un cavolo di calcio io Non ci ho mai capito niente Forza Juve!